Siamo con il mister Fagiolo, dopo una sconfitta, credo, anche abbastanza pesante per come si è uscita contro il Pomezia, l'avevate cominciato bene però? Eh, abbiamo cominciato bene, abbiamo sbagliato altri gol, potevamo stare in primo tempo a meno 3-0 per noi, poi è finita 1-1 anche per l'espulsione che c'è stata. Adesso non so se è giusta o non giusta, però magari potevamo fare qualche cosina di più, sicuramente al secondo tempo qualche cosina di più, visto la parità numerica. Allora, sono stati bravi loro a sfruttare migliori azioni in quanto viene, visto che sono andati subito al vantaggio con degli errori nostri, così è andata la partita. La domanda centrale, infine, è quanto l'espulsione del vostro numero 5 ha cambiato veramente la gara? Guarda, noi già eravamo molto rimareggiati come formazione e praticamente avevamo 4 a 6, quindi tra cui 3 difensori, quindi non era, diciamo che era l'unico difensore di ruolo della partita, quindi diciamo che ci si è messa un po' male. Abbiamo giocato dietro qua alla fine con un attaccante e 3 centrocampisti, quindi insomma, ho dovuto soccorre un attimino ai ripari. Però ecco, siamo questi, dobbiamo andare avanti per quello che riusciamo a fare. Grazie. Grazie.